Oggi ti parlo di un'applicazione che ti può aiutare con il jet lag, sì con il jet lag, perché credimi ti può creare dei problemi, soprattutto se sei una persona che viaggia spesso anche due o tre volte all'anno e vai a lungo raggio, cioè vai lontano e devi subire un cambio di fuso orario importante, il jet lag ti potrebbe rovinare addirittura la vacanza, rovinare il rientro, sì non sono esagerato. Ecco perché oggi ti parlo di Time Shifter, app che ti ho già citato in passato ma che ho aspettato di comprare perché l'avevo solo testata ma ora ce l'ho, l'ho comprata, la sto utilizzando e credo che sia una piccola rivoluzione per me, ma potrebbe esserlo anche per te. Cominciamo col capire che tipo di app è, è semplicemente un'applicazione che trovi per sistemi iOS, quindi per tutto il mondo Apple e per sistemi Android, quindi nessun tipo di problemi, che ti permette inserendo il numero dei voli, diciamo il tuo itinerario, ti permette di andare a costruire un processo di cosa fare, di cosa non fare per evitare problemi in caso di jet lag. Ma quali sono questi problemi che ti evita Time Shifter? Ti spiega che cosa fare, ad esempio, per poter assorbire il jet lag più velocemente possibile, cosa fare per ritornare lucidi più velocemente possibile, cosa fare per dormire meglio, perché sapete che cambiando fuso orario è anche importante, il nostro ciclo circadiano va a farsi benedire, quindi Time Shifter ti aiuta a riprogrammare il sonno sostanzialmente, a far sì che più velocemente possibile torni a regolare il tuo ritmo circadiano. E questo cosa comporta? Il fatto che ti godrai il viaggio al 100%, perché andrai subito a essere in forma anche se hai fatto un viaggio lungo, e soprattutto anche al ritorno, momento in cui magari devi tornare subito a lavorare e stai fuso per una settimana o due, a me è capitato anche due, beh, Time Shifter ti aiuta anche al ritorno, a far sì che, come per l'andata, per quando sei in viaggio, anche al rientro a casa nel giro di 24-48 ore sarai del tutto a posto. Ora la logica di questo video è che ti farò vedere la mia applicazione da telefono e ti farò vedere come si inserisce il volo e che piano ti viene dato. Però prima fammi andare un attimo sul sito, così andiamo a vedere costi, andiamo a vedere come funziona il tutto, gli abbonamenti, perché c'è da vedere quello. Ti dico subito che c'è un viaggio gratis, comunque andiamo a video. Eccoci qui sul sito di Time Shifter, di cui ti lascio il link qui sotto in descrizione, come vedi la prima cosa che ti fa vedere è proprio l'app per il jet lag, questa qui. Poi ce ne ha un'altra per chi fa turni di lavoro, importantissima anche quest'app, però non è oggetto di questo video. Poi ti spiega perché è importante quello che abbiamo detto adesso, il ritmo circandiano, le funzioni immunitarie per i traveler che vogliono velocemente recuperare il tutto, sia di lavoro che altro, ma anche chi sono le figure più adatte all'acquisto di quest'app, lo vedremo subito dopo aver visto come funziona. Che cosa voglio farti vedere adesso? Che puoi provarla gratuitamente. Il primo viaggio lo puoi creare gratuitamente. Se tu clicchi su try it for free, vedi che hai, quello che interessa a noi è the jet lag app, the jet lag app, come dice first jet lag plan is free, ovvero il tuo primo itinerario di viaggio è gratuito. Io la provai un anno e mezzo fa, poi dopo non comprai nulla perché avevo solo viaggi in Europa. Ora che comincio a via, comincerò dalla fine di ottobre a viaggiare spesso a lungo raggio, ecco che quest'app mi torna utile, quindi l'ho acquistata. Ti dico, non ti consiglio a mio avviso di acquistare il piano per singolo viaggio, ma l'abbonamento annuale. L'abbonamento annuale costa 24 dollari e 99 al cambio attuale più o meno 25 26 euro per un anno e tutti i viaggi che vuoi. È chiaro che puoi acquistare anche per 9 e 99 dollari, quindi più o meno 8 euro e rotti il singolo itinerario. Non conviene a mio avviso, assolutamente no, però vedi tu, ti scarichi l'app, provi perché il primo viaggio è completamente gratuito ed è fighissimo, quindi provalo perché è completo il primo viaggio. Poi è chiaro che se vorrai aggiungere altri viaggi dovrai pagare, dovrai decidere quale dei due prendere. Io personalmente ho preso quello da 24, 99 perché a mio avviso con due viaggi, con tre viaggi te lo sei già ripagato assolutamente, ma anche con due viaggi con multitratte te lo sei ripagato comunque. Ora però basta, torniamo sul mio faccione o meglio sul mio faccione ma anche sul mio telefono e andiamo a vedere come funziona l'app dall'interno e andiamo ad aggiungere anche un itinerario. Eccoci qui, io adesso tengo gli occhi bassi perché devo vedere sul mio telefono l'app e come vedi appena entrando è un'app molto lineare, pulita, semplicissima. Abbiamo tre voci l'in basso, tre diciamo finestre. A noi si apre così con la finestra centrale dove ci sono in pratica già i video, i viaggi caricati. Io qui ho già un viaggio verso a noi caricato ma non ti faccio vedere quello perché perché se entro in questo non ti posso far vedere come vado poi a caricare viaggi ma prima di tutto andiamo a vedere le tre voci qui sotto perché qui subito a sinistra abbiamo quella con l'omino che è il nostro account entrando ci mi dice se e come è attiva l'applicazione ed è attiva nel mio caso e poi ti chiede di inserirgli alcune impostazioni che sono utili per poi a lui poi per crearti il piano per riprenderti al meglio per il tuo volo. Quindi caffeine advice tu consumi caffeina bevi caffè on off puoi decidere se prendere o meno la caffeina perché così creerà un piano a seconda che tu la prenda o meno perché in alcuni casi aiuta in alcuni casi non aiuta e quindi va deve essere deve essere stoppata. L'uso di melatonina utilizzerai anche la melatonina sì no io nel caso della caffeina ho messo on quindi voglio utilizzare il caffè voglio bere caffè sostanzialmente o non berlo quindi mi dirà lui come fare utilizzo anche la melatonina quindi è un acceleratore del tutto poi il pattern normale del tuo sonno più o meno a che ora vai a letto e a che ora ti alzi io qui ho messo mezzanotte 7 il mio pattern è forse più 23 30 6 e 30 ma non potevo metterlo quindi ho messo 007 stessa cosa più o meno 7 ore dovrai inserire il tipo che cronotipo sei sei un early bird cioè ti alzi presto la mattina normalmente sei una persona che va a letto molto tardi la sera oppure non vuoi inserire nulla e lui ti dà tutte le possibilità ti ti spiega se metti su how do you know a le app sono tutte in inglese e quest'app è tutta in inglese quindi c'è poco da fare però per determinare il cronotipo ti basta leggere questo e capire quale sei io sono un early bird quindi ho messo early bird perché è quello il mio cronotipo normalmente quando sono a casa tutto il resto sotto è roba tecnica dell'app come termini di utilizzo la privacy policy il cambio di password riportare bug eccetera tornando invece all'app alla parte centrale è quello che avevamo visto nel simbolo dei voli abbiamo i voli io qua ho i voli che ho inserito appunto per il mio viaggio ad a noi quindi un bar istanbul istanbul a noi ma noi freghiamocene perché noi andiamo a inserirne uno nuovo quindi torno nella parte centrale con quell'icona tonda gialla con il più ci clicco sopra e lui mi dice importante inserisci tutti i voli di un itinerario non andare a inserire un solo volo cioè se hai uno scalo inserisci tutte e due i voli perché lui ti andrà a calcolare così l'intero l'intero recupero è molto molto importante e anche se hai un multi city è da fare così ora io mi sono già cercato i codici dei voli ti consiglio di andare a cercare il codice del volo che solitamente è due lettere più una serie di tre o quattro numeri che definiscono la compagnia c'è scritto anche nella tua prenotazione il numero del volo quindi adesso clicco su add flight vado a cercare la mia data la mia data sarà 7 di novembre il volo il primo volo che devo inserire sarà di partenza di rientro da ho chi min city quindi dal sud del vietnam verso il verso l'italia ok faccio ci sto inserendo l'itinerario per il rientro dal vietnam così poi ce l'ho già e lo faccio già qui con te quindi clicco su ok ecco qui che mi chiede ad esempio il numero del volo io lo leggo sui miei appunti è un tk 163 vediamo se me lo trova ecco qui l'ha trovato la prima tratta è questa quindi parte da ocimin city e arriva a istanbul perfetto è questo quindi mi chiede lo ciclico sopra ok l'ho inserito arrivo alle 5 30 dell'otto a istanbul mi chiede se voglio aggiungere un nuovo volo se questo ho finito no io voglio aggiungere un nuovo volo e sarà l'otto di novembre lui me lo dà già e il numero del volo è tk 1453 tk 1453 vediamo se lo trova istanbul napoli sì perché arrivo a napoli ci clicco sopra e questo è il mio itinerario il mio itinerario per il volo di rientro quindi non mi rimane non ho altri voli in questo senso non mi rimane che cliccare su la pulsantino verde nella parte bassa ci clicco sopra lui sta creando il mio diciamo sta inserendo questo questo itinerario e adesso ha creato sostanzialmente il mio programma per riprendermi ora io ti potrei far vedere uno e l'altro comunque ti faccio vedere quello di napoli sono assicurato con il mondo per tutti i miei viaggi ormai dal 2018 io ho l'assicurazione multiviaggio annuale che mi copre però con il mondo puoi avere anche assicurazioni per viaggi singoli assicurazioni annullamento assicurazioni per viaggi a lunga permanenza e come dicevamo assicurazioni multiviaggio annuale quella che ho io e la cosa bellissima è che per tutta la nostra community per me ma anche per tutta la nostra community abbiamo ottenuto dai mondo lo sconto del 10 per cento su qualsiasi prodotto andrai ad acquistare qualunque delle assicurazioni che dicevamo prima non serve inserire codici o altro devi solo entrare attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i video del canale youtube di viaggio vero una volta entrato vedrai già dalla banda in alto sul sito di ei mondo che lo sconto è stato applicato a questo punto perché ho scelto e amo ei mondo come assicurazione di viaggio semplicissimo per tre motivi numero uno perché non devo anticipare soldi in caso di problemi e se abbatti la franchigia con pochi euro beh a quel punto davvero non tiri fuori nemmeno un euro numero due perché hanno un'app chiara e semplicissima da utilizzare per contattarli in caso di problemi in italiano numero 3 non meno importante perché tutti i loro prodotti sono chiari sotto tutti gli aspetti so da subito quante e quali sono le coperture e decido io se aumentarle o meno a questo punto entra con il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i miei video qui sul canale youtube prova a fare un preventivo vedi che c'è il 10 per cento di sconto e non prenderti rischi stupidi viaggia con l'assicurazione sempre anche in europa fuori dall'italia anche in europa sempre 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 inoltre abbiamo uno sconto del 10 per cento cosa stai aspettando clicchiamo sopra ci entriamo come vedi questo è il programma per riprendermi più velocemente possibile quando lo rientrerò a casa questo programma parte martedì 5 novembre si parte qualche giorno prima della partenza stessa questi blocchi che vedi qui inseriti a destra e sinistra gli orari ma dei blocchi inseriti per un certo lasso di tempo molto semplice perché ti basta cliccarci sopra come vedi questo con il sole barrato mi dice che devo minimizzare la luce l'esposizione alla luce in quegli orari in questo caso tra le 8 e le 11 dovrei non ce la farò perché sono in viaggio con un gruppo ma tra le 8 e le 11 dovrei minimizzare la mia esposizione alla luce il 5 martedì 5 di novembre posso poi utilizzare spesso e poca caffeina quindi tutte le bevande con la caffeina però solo dalle 8 alle 16 devo smetterla alle 16 non posso bere nessuna bevanda con caffeina dalle 16 in poi mi dice anche tra le 18 e le fino a che arriva sera di stare più alla luce possibile più all'esterno possibile più alla luce sottibile più alla luce possibile è vero siamo verso sera ma godere finché c'è luce per stare poi mi dice che dovrei andare a letto devo essere già a letto tra l'una e le 8 del mattino tra l'una e le 8 del mattino io devo dormire fra il 5 e il 6 e a quel punto se potessi farlo perché non è sempre così dovrei stare tra le 8 e le 12 non alla luce posso bere caffeina fino alle 17 poi smetterla totalmente dovrei stare alle luce dalle 19 e poi andare a letto alle 2 devo andare a letto prima perché comunque io ho un gruppo però questo è l'ideale se uno è uno che è in viaggio di lavoro o comunque di piacere e puoi fare questa vita beh questo qua ti permette di risolvere tutti i problemi al ritorno è chiaro basta starci vicino posso dormire dovrò dormire dalle 2 alle 9 dalle 2 alle 9 queste sette ore e poi vedi che mi si restringe un po tutto perché questo è il giorno della mia partenza e cambia che che qui comincio a vedere il volo e mi dirà anche come comportarmi in volo mi dirà di mettermi alla luce prima della partenza ecco vedete questo piccolo tra le 15 alle 16 del 7 mi dice sarebbe bene fare un piccolo power nap una piccolo riposino di un'oretta in questo perché dopo alle 22 cominci a volare quindi sarebbe meglio la caffeina vedi la puoi pigliare dalle 16 fino addirittura alle 8 del mattino del giorno dopo già quando sarai a istanbul con l'orario di istanbul perché perché sostanzialmente arrivi là che è mattina dormire la vedo dura però lui ha inserito questa cosa qui se tu non prendi caffeina e ti dice di fare dei power nap anche in volo se possibile tra le 22 e le 4 del mattino per poi comunque stare sveglio qui lui ti dice che alle 4 esporsi alla luce perché perché sostanzialmente fuori dall'aereo ci sarà luce già quindi magari se sei vicino al finestrino cerca di aprire il finestrino non dico che sarà luce esternamente però aprire il finestrino e godere un po della luce e così via ti dice l'istanbul time perché ci stai poco vedi ci stai dalle 6 alle 8 praticamente perché poi parte il volo che mi porta a napoli e poi mi darà le i suggerimenti per il giorno di arrivo a napoli e il giorno dopo quindi fino a sabato 9 novembre io possibilità di andare a godere del del programma di time shifter per cercare di farmi assorbire meglio il il jet lag stessa cosa succede sul volo di andata parte da io parto il 27 alla sera mi parte da venerdì 25 e arriva fino al al 30 perché io arrivo là il 28 lui fino al 30 mi dice come sarebbe meglio per giostrarmi per farmi assorbire il 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 jet lag credetemi sembrano poche informazioni ma sono importantissime c'è la possibilità e ve lo consiglio di mettere delle notifiche mettere delle notifiche che vi ricordino quando sarebbe ora di andare a letto quando sarebbe ora di non bere più caffè quando si potrebbe bere caffè quando bisogna bisognerebbe fare un piccolo power nap e così via perché in questo caso aiuta di più nel pulsantone blu auto time shift se tu ci clicchi ti spiega in dettaglio questi simboli che abbiamo già visto io ho velocizzato le cose ma c'è tutta una una spiegazione in dettaglio di tutti i simboli in maniera che sia più facile poi utilizzarlo io ho l'abbonamento da 24 e 99 dollari quindi 22 euro all'anno pochissimo posso inserire tutti i viaggi che voglio infatti fra poco andrò inserire poi anche il mio viaggio di novembre perché io ritorno qui il lotto e poi il 14 riparto quindi sarà importantissimo per me andare a inserire tutto perché in questo caso lui si andrà a regolare a cercare di farmi regolare tra il lotto e 14 di novembre sarebbe molto molto importante ora torniamo di nuovo sul mio viso perché andiamo a vedere perché adatta quest'app quali sono le figure migliori che ci godono di più ad averla diciamo e poi andiamo a vedere anche quali sono i partner di time shifter perché sono partner molto molto importanti a chi consiglio l'uso di time shifter e l'acquisto di time shifter beh a tutte le persone che subiscono e hanno subito in passato il jet lag e che lo subiscono tanto ci mettono tanto a riprendersi anche a livello di stomaco di intestino quando arrivano sul posto e poi al rientro magari rimangono 15 giorni senza con una resa ridicola con tanta stanchezza addosso eccetera eccetera credetemi funziona perché quando lo testai un anno e mezzo fa funzionava a bestia mi aiutò un casino non so perché non l'ho comprato a giugno per andare negli stati uniti l'ho vista come una destinazione in cui non mi sarebbe servito al rientro è stato un delirio più al rientro che all'andata al rientro è stato veramente un delirio e ho impiegato due settimane a riprendermi se avessi avuto time shifter mi sarei ripreso molto più velocemente ecco perché adesso che vado e torno velocemente dall'asia praticamente per un mese e mezzo e poi dopo l'anno prossimo comunque la utilizzerò anche per viaggi negli stati uniti così via per cui l'ho voluta dovuta e voluta comprare anche perché la cifra è veramente irrisoria quindi persone che subiscono il jet lag come sottoscritto viaggiatori frequenti viaggiatori frequenti anche per lavoro quelli che viaggiano per lavoro secondo me sul lungo raggio hanno necessità di avere quest'app anche perché si spostano spesso tra diversi fugi orari nello stesso viaggio quindi è importante secondo me avere un'app che ti gestisca al meglio e ti dia consigli su come stare bene fisicamente come ti dicevo all'inizio il primo viaggio è gratis quindi provalo inserisci il primo viaggio quando dovrai fare vedrai come te la godi poi deciderai tu se fai altri tre viaggi in un anno due tre viaggi è fondamentale averla è praticamente di un'utilità pazzesca ma ora andiamo a vedere a schermo quali sono i partner che si affiancano a time shifter perché sono partner di alto livello che fanno capire come quest'app sia di altissimo livello eccoci di nuovo qui sulla pagina web di time shifter ti ricordo che qui puoi farci solo questo non tutto il resto va utilizzato da app puoi solo dare un'occhiata vedere i prezzi eccetera eccetera ma basta andare giù e vedere view partners qui e così vedrai anche tutti i partners che ha quest'app qui compagnia air lufthansa austria united swiss brussel airline tantissime catene di hotel come intercontinental tante sixth senses tante realtà che lavorano comunque nel mondo dei viaggi con oggettistica come chase come axiom space tripadvisor amadeus che la piattaforma una delle piattaforme principali al mondo per la prenotazione di voli era per farti capire la validità di questa applicazione questi sono i partner che hanno finanziato e finanziano al momento time shifter perché reputano time shifter un'app di alto livello in alcuni casi queste realtà regalano ai propri clienti non so di programmi di miglia che hanno tante miglia o per quanto riguarda i voli oppure aziende in cui i dipendenti lavorano per queste grandi realtà regalano appunto time shifter perché sanno che li possano aiutare a risolvere i problemi ad assorbire al meglio il jet lag e questo permette anche al dipendente di lavorare meglio una volta sul posto mi sembra assolutamente logico era solo per darti un valore in più a quest'app che non è l'app gettata lì e campata lì ormai sono anni che esiste ed è una delle app che ha raccolto più denaro tra i finanziatori e grandi finanziatori come quelli che ti ho fatto vedere adesso a questo punto non ti resta che provare il primo viaggio gratuito e poi fammi sapere perché sono convinto che quest'app ti potrebbe aiutare davvero se sei una di quelle persone che ho citato nel corso del video se questo video se questa recensione di app ti ha aiutato in qualche modo ti ha fatto conoscere uno strumento importante un pollicione verso l'alto aiuta a crescere il canale per questo ti dico già grazie 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 e grazie ancora se non sei ancora abbonato abbonata facciamo recensioni tutti i sabati ma ci sono anche tanti altri video ci sono le live insomma è tutto gratis il pulsante per iscriverti è qui sotto e se clicchi anche sulla campanella riceverai tutte le notifiche ai nuovi video che andranno a uscire qui a fianco ti faccio passare due video con altre recensioni di oggetti o servizi utilissimi